Buonasera signori e signori e benvenuti alla serata speciale del progetto Calcio Storia. Storie di integrazione dal profondo del calcio, progettato e ispirato dalla storia di Erpa Weiss, raccontata da Matteo Marani. Raccolte indifferenziate, da Sassuoli dintorni raccolte di storie non indifferenti. Le classi seconda B e seconda D dell'Itisvolta di Sassuolo, in provincia di Modena, ci accompagneranno in un interessante viaggio tra disabilità, razzismo, musica, sport e passione. I nostri inviati si sono recati presso la sede del Sassuolo Calcio per intervistare alcuni calciatori in merito ad un presunto episodio di razzismo, avvenuto durante il Trofeo Team 2013, svoltosi a Sassuolo. Ecco a voi in servizio di Andrea, Matteo, Fabio e Gabriele. Sassuolo, come vanno accolto? Cioè è meglio o peggio che nelle altre città in questa storia? Proprio come città? No, ci hanno accolto bene, ci hanno accolto bene. Infatti stiamo tutti bene qua, una città molto tranquilla, anche società molto seria e stiamo bene qua. Come si è visto, anche come abbiamo fatto che abbiamo fatto un gran confinamento. Vi è mai capitato di aver partecipato ad episodi di razzismo in campo, negli spogliatoi? No, no, mai successo. Mai successo questo. È fortuna. Nella Serie A, secondo voi, perché stanno utilizzando dei mezzi buoni, la Lega Serie A contro il razzismo e la UEFA? Sì, penso di sì che... Per combatterlo proprio? Sì, sì, secondo me stanno facendo bene, ma è giusto che vanno queste cose perché vedi queste cose capitano sempre di meno, diciamo. Sì, sì, ma in Italia capitano spesso dei episodi di razzismo nelle partite, anche nelle città in cui voi giocavate all'estero, nelle vostre città natali, succedevano all'estero di razzismo? Da noi no, da noi io dove... perché io poi ho vissuto là da cosa mia, ho vissuto poco, però mai è stata questa cosa, cioè non abbiamo mai vissuto questa cosa. Sì, 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 molto bene. Non abbiamo avuto nessuna difficoltà, forse magari anche un po' meglio, cioè forse era meglio che sono tanti italiani così parli magari anche più italiano, parli spesso italiano, capito? Sì, sì, magari non parli una lingua diversa, però bene, ce l'ho accolto bene. Secondo voi ci sono solo in Italia dei problemi sul razzismo, per il razzismo o anche negli altri paesi? Non so, ma penso che possiamo dire che è capitato già da qualche altre parti sicuramente, però speriamo che queste cose saranno sempre di meno perché al fine noi siamo tutti uguali, non c'entra da dove vieni, o chi sei, o cosa fai, l'importante è quello che sei tu, quello che hai dentro, quello che ti puoi trasmettere, le cose buone, diciamo, agli altri. Sì, grazie mille.